Mi resta di te, mi resta di te, ogni terzo fare su te, ma non ho mai condivido a mia, szofa, che cosa ti aspetti in tutta l mare. Che cosa diciamo? C'è un paraggio in questa gara. 28 telecamere. Bisogna fare attenzione a tutto, si parla con la mano Insomma il calcio è cambiato in maniera importante Insomma il calcio è cambiato, si parla con la mano Guarda il bel modio, e poi, eccola lì Insomma il calcio è cambiato Il calcio è cambiato made Scusate Il calcio è cambiato Discovery Chart, che raccoglie i migliori... ...e utilizzare queste risu... ...e perché pare sia stato creato negli anni Ottanta... ...su quelli che sono i drink in coppetta che pare non siano essere... ...e capito come funziona oggi... Sono le ore 18 e 53 minuti... ...e che Anderson... ...abbia fede nel cinema... ...e di sapere ogni cosa che ho testato... ...di beneficenza tra una rappresentante... ...in campo alla Nazionale Italiana di Giochi... ...e allora io non posso andare... ...diciotto ore al giorno... ...all'origine la spaccatura della Libia... ...con il premier a Bellamide Dweibah... ...che a febbraio è stato sfiduciato dal Parlamento... ...al suo posto è stato nominato Fatima Shaga... ...ma Dweibah non si è mai dimesso... ...ed è tuttora riconosciuto... ...da fare al cinema... ...ce ne sono tante come avete sentito anche in questa... ...diciotto ore a Puglia... ...Giochi... ... Ari! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando dico che non è così... Quelli che sono le realtà del nostro paese, fuori dall'atlantismo. La maggioranza delle radiomarie africane sono impegnate a crescere fino a coprire tutti... La sera Ucraina, l'offensiva russa... ...e fare tutte e due le cose, e cioè ragionare, e portare un ragionamento, ed essere empatici e portarlo col cuore, la gente ci seguirà come ha fatto in questi due anni. Voi ritornate in campo. ...on court number one, on him. Ed è stato un passato per me, mica semplice, anche se venivo già da cinque anni, dove avevo fatto la pianista. Il neosindaco Dommasi ha firmato l'ordinanza per la limita... ...e c'è un passato per me, mica semplice... ...e c'è un passato per me... ...i naturali alleati dei tuoi capelli... ...per trapianto, autorizzazione regionale Umbria, 13.388, 18, direttore sanitario, dottor Pucari... ...si potrebbe andare da MD a fare la spesa... ...se ne vedo la cura... ...gli uova... ...je girna di f 50 euro, deixa la gira di freddll zombie... ...agglo i gir of, i diri... Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. 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 Sì.